Partiamo comunque da quello che è successo in settimana, quindi l'ennesima situazione sul Consiglio di Amministrazione. Noi abbiamo nei direttori dei vari dipartimenti, in questo caso ragioneria, che sui nostri provvedimenti ci vengono a contare anche le virgole. Noi siamo fieri di avere amministratori e finalmente in una città come Roma, dove in passato c'è stata comunque un'allegria sui conti, ci sia un'attenzione molto particolare. Questa attenzione c'è anche sulle nostre partecipate, quindi quando c'è un bilancio che presenta in questo caso 18 milioni, dove le fatture dietro non hanno una corrispondenza rispetto a cosa effettivamente è stato effettuato, è chiaro che i nostri amministratori non sono propensi a firmare. Voi dovete pensare che ad esempio due anni fa sulla questione Atac non sono stati riconosciuti 100 milioni, perché venivano da fatture forfettarie che Roma Capitale pagava in passato. 100 milioni sono 50 silenito, sono soldi dei cittadini. Quindi con noi questa storia è finita. La politica supporta questo tipo di dirigenti che non fanno sconti a nessuno. Questa è la premessa. Siamo anche un po' stanchi di inseguire consigli di amministrazione che non vogliono comprendere questa cosa molto semplice, che va però separata dalla questione dei rifiuti.